Ok, allora vediamo come procedere all'installazione del Linker for Windows. Una volta scaricato dal web, avviamo l'eseguibile, lasciamo naturalmente che si installi, seguiamo la procedura, accettiamo i termini, lasciamo che si installi, ok, finish. A questo punto il programma è installato, dobbiamo andare però a creare un collegamento ipertestuale, un collegamento per praticamente farlo avviare. Il programma lo troviamo dentro alle risorse del computer, disco locale, programmi, dovrebbe essersi creata una cartella TeamScope, eccolo qua. Dentro al Linker for Windows troviamo l'eseguibile del programma, creiamo un collegamento sul desktop, allora clicco col destro, vi dico di creare un collegamento e trasciniamo questo collegamento sul desktop. A questo punto abbiamo il collegamento per avviare il programma, possiamo fare doppio clic per avviarlo, quando lo avviamo comparirà sulla icon tray qua in basso questa icona che significa che il Linker è attivo. Avviamo l'Outlook, benissimo. A questo punto facciamo una prova, entriamo all'interno di una attività, vogliamo collegare qui un email, ok, andiamo in posta in arrivo, selezioniamo l'email che ci interessa, facciamo finta questo, andiamo a cliccare su questa iconcina, la prima volta che lo utilizzerò nell'arco della giornata mi mostrerà questa banner pubblicitario, chiudo, poi non me lo mostrerà più, difatti vedete se faccio clic un'altra volta non me lo mostra, posso andare sulla mia attività e fare incolla. In questo modo come vedete si collegherà l'email attraverso un collegamento ipertestuale, riporta il nome, l'oggetto dell'email, se faccio clic si aprirà la mia email. Un consiglio che vi do è quello di mettere la spunta su Include folder path, in questo modo quando vado a selezionare l'email, in questo caso proviamo questo, lo collego, quando vado a selezionare l'email dicevo, scriviamo secondo email, avrò tutto il percorso, cioè saprò dov'è questo email, in questo caso posto in arrivo.